Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono T ed oggi siamo tornati su Undertale, terza parte Allora l'ultima volta eravamo arrivati a Snowdin e abbiamo parlato con tutte le persone con cui potevamo parlare Adesso dovremmo andare qua, sembra che entreremo in una dimensione parallela tipo Attenzione ragazzi, via il mouse comunque Permettimi di dirti delle sentimenti complessi, sentimenti come la felicità di trovare un altro amante della pasta L'ammirazione per aver trovato qualcun altro con delle grandi skill in risolvere puzzles Il desiderio di avere una persona figa e intelligente che pensa che tu sia figo e intelligente Questi sentimenti Dovrebbero essere quello che tu stai provando in questo momento Posso difficilmente immaginare che cosa si possa provare a avere questi sentimenti Dopotutto io sono incredibile Non mi chiedo neanche che cosa voglia dire avere moltissimi amici Io ti aiuterò Lonely human Umano insomma Non preoccuparti Non sarai più da solo Io l'incredibile papyrus Diventerò tuo No No È tutto sbagliato Non posso essere tuo amico Sei un umano Devo catturarti Dopo Io potrò finalmente Rendere verità il mio incredibile sogno di tutta la mia vita Potente, popolare e prestigioso Questo sono io Papyrus Il nuovo membro della Royal Guide Orca Papyrus blocca la strada Cosa? Flirting? Quindi tu stai finalmente rivelando le tue incredibili ultime sentimenti Bene Io sono uno scheletro con Con molti Con difficili standard Io posso fare gli spaghetti Oh no You're meeting all my standards Immagino che questo voglia dire che Dovrò uscire con te Ma perché? Uscirò con te dopo Dopo che ti avrò catturato Penso che questo attacco sia stato quasi impossibile da schivare Papyrus sta pensando cosa indossare per la sua uscita con te Vediamo 8 attacco e 2 di difesa Gli piace dire Eccolo là Papyrus sta pensando a cosa cucinare per la sua uscita con te Ok Dice la stessa roba che ha detto prima Papyrus Cosa? Eh Sta Sta Si è messo un profumo dietro al suo orecchio essenzialmente Quindi tu non vuoi combattere? Allora vediamo se sarai in grado di sopravvivere al mio incredibile attacco blu Cos'è? Dua Sei blu adesso? Quello è il mio attacco Sei blu adesso Mi chiedo cosa dovrei indossare Papyrus si mette qualcosa dietro l'orecchio Ma cosa? Papyrus è talmente impegnato nel combattere Che non può risponderti Cosa? Non sto pensando all'uscita con te Aia Papyrus bomb Hold up longer to jump higher Jeez Ok Boh andiamo com'è Non farmi usare il mio attacco speciale No ho paura adesso No Fatto Perfetto XP maxed out Ok Posso quasi sentire la mia popolarità futura Ma perché? Papyrus si rende conto di non avere orecchie 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 Papyrus sta considerando le sue opzioni The king will trim a hedge in the shape of my smile Non so che cosa voglia dire quella roba Attenzione Papyrus si rende conto di non avere orecchie 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 E quindi sta Non ho capito niente però vabbè Avrò molti ammiratori però Papyrus sta considerando le sue opzioni Ci sarà qualcuno che mi apprezzerà Così sinceramente come te Se mi ammazzi adesso penso proprio di no Someone like you is really rare Qualcuno come te è molto raro Uh mamma mia la proagine Aia però qua non c'era tanto Cos'è? Papyrus Si sta impegnando molto per Per far finta di essere tranquillo Uscire con te sarebbe Quasi difficile ma perchè? No! 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 Papyrus sta preparando un attacco con le ossa Dopo che sarei catturato E spedito via Bello Aaaaaaah Papyrus si ricorda di uno scherzetto Che gli ha detto quell'altro Boom Boom Ah chi se ne frega Give up Assolutamente no Mamma mia Cos'è? Smash Cioè ha l'odore di ossa Ehm vattene o vedrai il mio attacco speciale Che non sono molto felice di vedere Visto che ho già paura adesso Con questi tre attacchi che mi fa Dai però Molto presto userò il mio attacco speciale Dai però Non molto userò il mio attacco speciale Questa è la tua ultima La tua ultima occasione prima che ho chiuso il mio attacco speciale Ah ma dai Ma dai Allora visto che sarà il suo attacco speciale Io gli do questa cinnamon bang Behold Il mio attacco speciale What the heck? Questo è il mio attacco speciale Hey you stupid log Ma mi hai sentito? Smettila di mangiare Di rosicchiare quell'osso Ehi cosa stai facendo? Vieni qua col mio attacco speciale Cos'è? Oh well Allora userò un Un normale attacco Un normale attacco Però in maniera molto incredibile Paparu si sta preparando A un attacco regolare Ecco qua un assolutamente normale attacco Maledetto Mi sto impegnando è veramente Vi giuro Ah maledetto cane Cool Dude Ma perché Cos'è? Cos'è? Ma dai Ma cos'è? Dai No Non riesco a tenere ancora Oh Well You can't Non puoi sconfiggermi Vedo che stai tremando Nei tuoi scarponi Quindi io ho il great papyrus Ah ti I will spare you Quindi ci lascerà andare Finalmente Adesso è la tua opportunità Per accettare la sua Bomba Che abbiamo fatto Dai Vieni qua No Non posso neanche fermare Uno debole come te Undyne Sarà Diciamo Resterà Non riuscirò mai A entrare nella royal guard E la quantità dei miei amici Rimarrà stagnante Cosa dovrei dire Let's be friends Really? Vuoi che Che diventiamo amici io e te? Bene allora Penso che Che riuscirò a fare Un'eccezione per te Wowie We haven't even had our first date Non siamo ancora usciti una volta E sono già raggiunto Ho già raggiunto la friendzone Chi avrebbe mai immaginato Che tutto quello che mi serviva Per farmi un amico Era dare alla gente Brutti puzzles E poi Andare contro di loro Mi ha insegnato molto Umano Quindi ti lascerò il permesso Di passare attraverso Sta roba E ti porterò fino alla superficie Vai Continua dritto Fino alla fine della caverna Dopo Quando raggiungerai la capitale Attraverso la barriera E Praticamente È L'unica cosa magica Che ci Costringe a rimanere Sotto terra Qualsiasi cosa Può Entrare Ma nulla può uscire In eccezione di qualcuno Con una Con un'anima Molto potente Come te Questo è Il motivo Per cui il re Vuole Vuole Ottenere un umano Vuole aprire la barriera Con il potere Della sua anima Dopo Noi mostri Potremmo tornare Alla superficie Oh Mi sono così dimenticato Di dirti Per raggiungere L'uscita Dovrai Sorpassare Dovrai passare Attraverso Il castello del re Il re di tutti i mostri Lui è Beh È un È un grande Morbido Simpaticone Ognuno di noi Ha un po' di effetto Per quel tizio Sono sicuro Che se gli dici Scusi Mister Dreamer Potrei Per favore Andare a casa Lui ti guiderà Alla barriera Con sé Comunque Questo è Abbastanza Parlato Andrò a casa Visto che sono Un incredibile amico Senti libero Di venire E uscire insieme Cos'era Cioè quindi se io Continuo dritto Per di qua Vado in un'altra roba In cui non vorrei andare Quindi andiamo Da papairus In tempo reale Ragazzi miei È qua No è la casa sua Eccolo qua Papairus Buongiorno Quindi sei tornato indietro Per uscire con me Dovrei Dovrei Sei molto serio Su sta cosa Ti dovrò portare In un posto Molto speciale Un posto dove Potremmo spendere Molto tempo Da grill Bis penso Che andiamo Cos'è La mia casa Ma perché Questo È Questo È La roccia Cucciola Di mio fratello Si dimentica Sempre di darle Da mangiare Come sempre Devo prendere La sua responsabilità Ma perché La roccia È ricoperta Di sprinkles Che cavolo Corre Sto papairus Mamma mia Che c'è Ho sentito Dei rumoretti Cos'era Non posso Sentire Le mie gambe Ma perché È È un libro Di È un libro Di battute Vedere cosa c'è Dentro Sì dai Dentro Il libro Di giochi C'era un libro Di fisica Quantistica Guardi ancora All'interno Cosa Dentro Il libro Di fisica Quantistica C'era un gioco Di scherzi Guardi dentro Dentro C'è un altro libro Di fisica Quantistica Decidi di fermarti E penso ben È È il mio show Preferito Sta dicendo Rimani Rimani Program Stay tuned Rimani Rimani connesso Per un nuovo programma What Di solito è meglio Di così È solo un brutto episodio Non giudicarmi Ma perché È un calzino sporco Con molte note Attaccate adesso Sans Per favore Tira sui tuoi calzini Ok Ma non Non rimetterli Per terra Spostali Ok L'ha spostato Di due Di due Di due Millimetri Spostalo Nella tua camera Ok E non portarlo Indietro Ok È ancora qua Non avevi Non avevi Non avevi appena detto Di non portarlo Indietro Nella mia camera Ah Ah dimenticalo Ma perché Hai toccato Il divano Fa uno strano rumore Hai trovato Un botto di monete Dentro al Al divano E hai beccato 20 20 gold È È un vecchio divano Ok Quella è la mia stanza Sei finito di guardare Possiamo andare Ci dentro E Fare quello che Fa di solito La gente Quando si fa Non ancora Un'immagine classica Mi ricorda sempre Quello che è importante Nella mia vita La porta è chiusa Quindi quella Deve essere La stanza di Sans Immagino E Il mio fratello Sempre va Fuori Per mangiare Però Recentemente Ha provato A Cucinare qualcosa Era come Un Che strana Roba Impressed Ho aumentato L'altezza Del mio Lavandino Così adesso Adesso posso mettere Più ossa Sotto Di esso Ah What Prendiamo Questo cane Cos'era Cos'era Smettila di Riempire la mia vita Con musica Che non c'entra niente Ah Interessato nel mio museo Del cibo Fai pure Fai pure Metà del cibo E' pieno di Di containers Chiamati spaghetti L'altra metà L'altra metà Contiene solamente Sacchetti vuoti Di patatine Bello Quella è Insomma La spazzatura Puoi visitarla Quando vuoi Bene Ciao Bom Adesso che ho guardato Ovunque Direi che possiamo andare Quella è la mia stanza Se hai finito di guardare In giro Possiamo andare dentro E fare tutto quello Che le persone fanno In una In una In una roba In un appuntamento Let's go Hey Cosa? Quelli sono tutti gli attacchi Che ho usato contro di te De Sembra che quasi Che sembra quasi Che sia stato ieri Anche se è successo adesso Quello è il mio letto Se mai dovessi andare Sulla superficie Mi piacerebbe guidare In una lunga Stradina Wind in my hair Col vento tra i capelli Il sole sulla mia pelle Of course Quello è solo un sogno Per cui Invece Io Io ci sogno Mentre Mentre dormo Buono Ah si Action figures Un buon riferimento A tutti i possibili Scenari di battaglia Come faccio A dare così tanti Beh diciamo Che sono Cioè Mi hai regalati Un tizio Che A cui piace Sorprendere la gente Sì È vero Santa Che cavolo Babbo Natale Isn't that flag neat Non è incredibile questa bandiera? Undyne l'ha trovata Alla Alla riva Quindi Proviene dal Dal mondo umano Adesso so che cosa stai pensando Perché una bandiera umana Dovrebbe avere un incredibile scheletro sopra di essa Beh Ho una teoria Penso che gli umani Discendano dagli scheletri Internet Sono molto popolare lì Sto per quasi raggiungere Due Due follower Ovviamente La fama Ha un alto prezzo Ha un troll Ha un po' diciamo Sfigurato la mia incredibile persona online Sempre mandando Scherzetti Nella font Ah Il computer È aperto In un In un sito social media Bello Quel libro È uno dei miei preferiti Avanzata costruzione di puzzle Per menti critiche Il libro a fianco È uno dei È anche uno dei miei preferiti Peekaboo con Fluffy Bunny Il finale Sempre mi Sempre mi fa commuovere Non ci sono scheletri dentro il mio armadio A parte me qualche volta Guardiamo nel closet Ah beh Ci sono molti vestiti Ci sono molti vestiti Ci sono gli appendini Quindi Se hai visto tutto Vuoi iniziare con questo appuntamento? Sì Ok Dating start Dating start Eccoci qua nel nostro appuntamento Non l'ho mai fatto prima Ma non preoccuparti Non puoi dire preparato Senza pronunciare molte lettere del mio nome Ma cosa Ho portato con me Un libro ufficiale Su come fare gli appuntamenti Della libreria Stiamo per avere un incredibile pomeriggio Vediamo Vediamo Passo 1 Premere la C Per dating ad Wowie Mi sembra di essere così informato Penso che siamo pronti Per lo step 2 Step 2 Chiedere Chiedere una Chiedere questa cosa In un appuntamento Human Io ho il great papyrus Vorrei andare A un appuntamento con te E perché là c'è un uovo Ha scritto egg Penso che quello sia un mister egg Andiamo Incredibile Wowie Penso che questo significa Che sia il tempo del passo 3 Passo 3 Ah Mettere dei vestiti adeguati Per far vedere all'altro Che sei interessato All'appuntamento Aspetta un secondo Wear clothing Attenzione ragazzi Quel fiocco nei tuoi capelli Tu stai indossando Delle robe Proprio in questo momento Non solo questo Prima Quest'oggi Stavi anche indossando Degli vestiti No È possibile Volevi uscire con me Fin dall'inizio dei tempi No Era tutto programmato Sei meglio di me In programmare Gli appuntamenti Il tuo potere di dare Orca miseria Il tuo potere di Non pensare di avermi superato ancora Io L'incredibile papyrus Non sono mai stato battuto Nel fare appuntamenti E non lo sarò mai Posso facilmente Essere al tuo stesso Al tuo stesso punto Diciamo Adesso vedrai Anche io posso infatti Vestirmi Infatti io sempre indosso Dei miei vestiti speciali Sotto i miei vestiti normali In caso Che qualcuno mi chieda Di uscire Di uscire con lui Behold Che cosa pensi Di questo mio stile segreto No Un complimento genuino Attenzione ragazzi miei However Comunque Non conosci Il potere segreto Di questa outfit Per cui Quello che hai appena detto Non è valido Questo appuntamento Non proseguirà ancora Per molto A meno che Tu non incontri Il mio segreto Ma questo non succederà Move and inspect With Z Le anime Degli umani Sono più forti Di quelle degli anime Dei mostri Ma le suole Delle nostre scarpe Sono più o meno Le stesse Non ci sono segreti Sulle mie gambe Ma cosa Solo un duro lavoro E Bomb e robe Ah ok Holding my hand So al taglio di ansia Ma non gli sto dando la mano No Devo resistere Ma perché Vedo 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 Ma cosa Ti piace ispezionare I bicipiti Con un cuore volante Non è vero Ma a chi non lo A chi non piace Ma perché Ma perché Questa maglietta Origineramente Diceva Solamente cool Ma io L'ho migliorata Dettaglio da esperti Tutti Tutti gli articoli Di vestiario Possono venire Migliorati in questo modo My hat Il mio cappello Il mio cappello Il mio cappello Well then Hai trovato il mio segreto Penso che non ho scelta È un regalo Uh È un regalo solo per te Sono spaghetti Sai che cosa sono Spaghetti È quello che stai pensando Non è vero Giusto Ma Cosa Questa non è Solamente Della stupida Vecchia pasta Questo è un lavoro Di artigiani Silk and spaghetti Attenzione ragazzi Poi cucinati Da me Master chef papyrus Umano È ora di finirla Non c'è Non c'è modo Che questo Che questo possa Continuare ancora per molto Hai preso Un pezzo di spaghetti Il gusto È indescrivibile Io must really love my cooking Ma cosa Forse potresti apprezzare me Più Più di quanto io stesso Possa apprezzarmi Uh No Human È chiaro Ora Ma cosa Tutto quello che fai Tutto quello che dici È tutto stato pianificato Umano Voglio che tu sia felice anche È tempo per me Di esprimere Le mie mie emozioni È tempo che io ti dica Io papyrus Io Eh Ma perché Fa caldo qua Non sono solo io Shoot Umano io Mi dispiace Mi sono impegnato molto Per farmi Per farmi Per convincermi Che tu mi piaci What the shit is this Pensavo che Visto che tu Flirtavi con me Io dovessi andare Dovessi uscire con te Poi In questa uscita I will be able to make sure But alas Io The great papyrus Ho fallito Mi sento come prima E invece Dopo aver Dovessi uscito con te Ma cosa Una prigione Senza via di fuga Come ho potuto fare questo Il mio caro amico No Wait È sbagliato Io non posso fallire In nessuna cosa Umano Io ti aiuterò Attraverso questi tempi difficili Resterò un Incredibile amico E farò finta che questo Non sia mai successo Dopotutto Sei molto Sei molto incredibile Sarebbe tragico per me Perdere la tua amicizia Quindi per favore Non piangere Perché non ti bacerò Perché Io non ho neanche Delle labbra Eh forse Un giorno Troverai qualcuno Incredibile come me Beh No Non è vero Ma Ma forse Il secondo è migliore Cos'è Oh Eh Se dovessi Qualche volta Insomma Se dovessi servirti Questo è il mio Numero di telefono Puoi chiamarmi Quando vuoi Pelotonicamente Beh Devo andare Ok Ok Non so cosa dire Di questa esperienza Sono traumatizzato Nel profondo Diciamo E adesso Possiamo però Continuare Cos'è Che cosa I'm scared Questo è un fiore Echo Aha Ripete l'ultima cosa Che ha sentito Over and over Sempre Questo è un echo flower Eh lo so Over and over Ah È molto divertente Questa Perché ha appena Sentito il matto Che diceva Che ripete L'ultima cosa Che ha sentito E il fiore Ha detto Ripete sempre L'ultima cosa Che Abbiamo capito Dai Il rumore Dell'acqua Ti riempie Con determinazione Attenzione Qua ragazzi Miei What Non hai mai visto Una persona Con due lavori Prima d'ora Fortunatamente Due lavori Vuol dire Che ho Due Due break Richiesti Richiesti La legge Andrò da Grilby Vuoi venire Sì dai Beh Se insisti Lascerò per forza Il mio lavoro Ah Vieni con me Conosco una scorciatoia Ah Scorciatoia Molto utile Non è vero Ehi tutti Sì Sons Hi Sons Greetings Sons Hi Sons Sons Hey Sons Weren't you Just here for breakfast A few minutes ago Non sei appena venuto qua Per fare colazione Qualche minuto fa No Non ho avuto Non ho Non ho fatto colazione Da almeno mezz'ora Forse Ti sei confuso Col brunch Ma perché Ecco qua Siediti tranquillamente Ma come Ups Stai attento Da dove ti siedi Ma cosa Qualche volta La strana gente Mette dei cuscinetti Sopra Ai sedili Comunque Ordiniamo Che cosa vuoi Andro per un burger Eh Sembra Piuttosto buono Eh Prenderemo Due burger Allora Quindi Che cosa pensi Del mio fratellone Ovviamente Anche tu saresti Incredibile Se Se indossassi Quella outfit Ogni giorno Lui se la tira via Solamente Se ne ha Incredibilmente Bisogno Oh vabbè Almeno se la lava E dicendo questo Intendo che La indossa anche Mentre si fa la doccia Incredibile Devo dire Ecco qua Il grub Vuoi un po' di ketchup Ma si dai Buon appetit Bon appetit L'avete capito Bon Perché bon Vuol dire osso Bon appetit Allora Hai messo il ketchup No Non ci voglio credere Si stacca il cappuccio Del ketchup E tutto va sul No Ah Sans mi sta dando Il suo hamburger Che simpatico Non ho fame Comunque Comunque Anche se è incredibile O no Devi ammettere Che papyrus Si impegna molto Per esempio Come cerca Di sempre Di far parte Della royal guard Un giorno E' andato a casa Del capo Della royal guard E l'ha pregato Di permetterle Di far parte Di essa Ovviamente Ma gli ha chiuso La porta in faccia Perché era mezzanotte Ma il giorno dopo Si è svegliato E l'ha visto ancora Che aspettava là Vedendo la sua La sua dedicazione E gli ha dato Un po' Gli ha dato Un insegnamento Da guerriero Diciamo E' comunque Un still work in progress Ah già Volevo chiederti qualcosa Hai mai sentito Di un fiore parlante Quindi sei tutto Di esso Ecco flower Sono ovunque Nelle grotte Di qualcosa A loro E loro lo ripeteranno Che cosa ti pare Di sta roba Papyrus Papyrus mi ha detto Qualcosa di interessante L'altro giorno Qualche volta Quando nessun altro In giro Un fiore appare E Sussurra Delle cose Ad essi Per esempio Incoraggiamenti E consigli Predicazioni Strano eh Qualcuno forse Sta usando Gli eco flower Per imbrogliarlo Stai attento Ok Grazie Interessante sta roba Welp Questo era Un break Bastanza lungo Non riesco a credere Che tu mi abbia Distratto dal lavoro Per così tanto tempo Oh comunque Non ho nessun soldo Per pagare Puoi pagare tu Sono solamente 10.000 al gold Sfortunatamente Stavo solo scherzando Grillby Aggiungilo al mio Conto Comunque Stavo per dire qualcosa Ma mi sono dimenticato Ma perché Vabbè Adesso che siamo Da grillbiz Forse possiamo Tornare nelle caves Comunque Questo gioco Sicuramente Molto interessante Devo dire Molto molto interessante Non so che cosa sia Questa dimensione Parallela In cui bisogna Entrare Per parlare Con papyrus Ma vabbè Quindi Stieco flowers Forse hanno qualcosa Di più Diciamo Monster kid Sta cercando Di 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 Sta cercando Anche tu Di riuscire A incontrarla Incredibile Lei Lei è la migliore Non è vero Voglio diventare Proprio come lei Quando crescerò Ehi Non dire A miei genitori Che sono qui Salviamo di nuovo Dai Molto bene Vediamo cosa c'è Un poco più avanti Quelle sono rocce Mi hanno detto Questa è una scatola Puoi mettere A bomb A box hater Ma cosa Si mi serve Il mio cinnamon bun Grazie Allora Welp Uh Echo flower Dimmi tutto Vi giuro Di aver Giuro di aver Visto qualcosa Dietro Dietro Quell'acqua Adesso ho paura Cosa sono Ste linee Allora Quindi Questa è una specie Di puzzle Per questo Direi di passare Mamma mia MLG qua Cos'è Papyrus Ciao Undyne Sono Sono qua Col mio Report giornaliero Ehm Riguardante Quell'umano Di cui ti avevo Parlato prima Ehm L'ho sconfitto Sì Ovviamente L'ho L'ho Sconfitto Senza paura Se l'ho Catturato Beh No Ho provato Molto Molto Ci ho provato Diciamo Ehm Però Alla fine Ho fallito Cosa Stai per prendere Tu l'anima Del Dell'umano Ma 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 non devi distruggerlo Vedi Vedi Capisco Ti aiuterò In ogni modo possibile Cos'è I'm scared Spostati però Per favore No Mamma mia Mancava poco Morivo Bello Ciao Sono qua Cos'è Ah Hai visto come ti aveva fissato Quello Era incredibile Sono così geloso Perché vuoi Perché vuoi avere la sua tensione Dai Andiamo 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 a vedere Mentre picchia Dei Delle persone cattive Ma che cose Ah Interessante Cos'è Ehm When four bridge seeds align in the water They will sprout Ok Quando quattro di questi saranno allineati Formeranno Formeranno un ponte Tipo Cioè Non formeranno un ponte Ma cresceranno Vedi pazienza Cresceranno creando un ponte Essenzialmente Eccoli qua Gra Uh No Pensavo easter eggs Of everywhere Cos'è Aaron Ciao Aaron Aaron in effetti è un mio amico Vai Ma perché Ma cosa Non è un flexing contest Che cavolo è Aaron è pronto Per il prossimo Flex Vediamo Mamma mia L'attacco Aumenta qua Per entrambi noi Maledetto Sto Aaron Nice Non perderò Non perderò Orca miseria Aaron è pronto Vai vai Cosa È andato fuori dalla stanza Ma perché Cosa Vai vai È andato fuori dalla stanza E' andato fuori dalla stanza Ma perché No Allora If an error is made The bale blossom Can call bridge Seeds back To where they started Ok Quindi volendo Posso fare così Ma volendo Posso fare così anche Vai Let's go Congratulations Congratulazioni Hai fallito il puzzle Maledetto Allora Vediamo un attimo Questo è tre Sono tutti tre qua Però io dovrei passare Tipo qua Vabbè ragazzi Mi sa che devo fermarmi qua Perché non Sono in grado di risolvere Per adesso ovviamente Poi sarò sicuramente In grado di risolvere Questo puzzle Però quindi Questo era Tutto quello che potevo fare Per questo video E noi ci rivedremo sicuramente Nel prossimo video E noi ci rivedremo sicuramente 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 Grazie per la visione!